Siamo sopra l'acqua a questo punto, anche perché tutta l'acqua che poi arriva da qua entra giù nelle cantine noi qua giù abbiamo ancora tutte le cantine bagnate perché tutta l'acqua quando poi arriva talmente forte e poi il problema è sulla centrale che sta sotto la centrale da sotto che da botti qualche giorno qualche appartamento salta a perare perché è 15 mila volte capisci che quando dà il botto Ah sentite proprio un botto voi? I botti sì sì, è come se scappiasse una bomba Quindi quello che è successo questa notte Se lei chiede a quelli dei calazzi di fronte e di là anche loro hanno sentito il botto Ma questa notte alle due avete sentito un botto? Sì sì Che è questa qui, quella che si trova sotto qua Ho capito E questa cosa succede da quanto tempo? Da aprile di quest'anno E la corrente salta in tutto il quartiere, giusto? Sì, la villa e sei palazzi 200 famiglie 200 famiglie Qui siamo, questo condominio è via Sant'Anna? 24 Via Sant'Anna 24 E sono proprietà private queste, tutte proprietà private Quindi non è Aler, Comune, no No, non è Aler, Comune Non è Aler, Comune No, non è Aler Comune